Ciao a tutti, sono Barbara, oggi volevo spiegarvi come si tirano sulle maglie alla fine di un lavoro, un lavoro semplice come questo che è una copertina da neonato, una volta che poi avrò tirato su tutte le maglie farò tutto un bordo all'uncinetto, poi vi spiegherò anche quello. Allora cominciamo col vedere che siamo sul diritto del lavoro, quindi io ne ho già fatto un pezzettino giusto per farvi vedere il risultato come deve essere. Allora, vediamo un attimino qua, si lavora diritto, si fa una maglia, dopodiché si prende la maglia che abbiamo fatto precedentemente e si accavalla su quella che abbiamo appena lavorato, in questo modo. Si fa la maglia dopo, sempre diritto, si prende la maglia che abbiamo lavorato precedentemente e si accavalla. E così via, si prende la maglia che abbiamo fatto precedentemente e si accavalla, diritto e si accavalla. Questo si fa per tutto il ferro fino alla fine. E questo è il risultato, semplice. Così si chiudono tutti i lavori che vengono fatti a maglia. È stato un video semplicissimo, vi ringrazio, ciao a tutti, alla prossima! Grazie a tutti!